Buongiorno a tutti, mi chiamo Edoardo Convertino, ho 22 anni e sono di Como, attualmente sono uno studente di italianistica presso l'Università di Bologna e sono qui per presentarvi il mio nuovo libro, che è anche il mio primo libro, si chiama Magia Affini, è una raccolta di poesie e ha vinto il premio internazionale Europa Inversi, bandito dalla Casa della Poesia di di Como, per la sezione Poesia Giovani Under 30. Il libro è stato pubblicato nel novembre del 2022 dall'editore Stefano Donno e dalla sua casa editrice I Quaderni del Bardo e si propone come una raccolta suddivisa in tre parti, la prima, chiamata Magie, ha l'intenzione di creare un percorso che porti dalla realtà quotidiana più sterile a una dimensione più onirica, quindi a far entrare il lettore in un vero e proprio sogno, vissuto anche attraverso dei sogni che sono delle esperienze anche infantili che ho vissuto in prima persona e dei sogni che comunque sono tornati più volte nella mia vita, quindi c'è anche tanto di mio, almeno credo. La seconda sezione si chiama Leo Conway, riprende appunto il nome di una donna, un segnal che era proprio di Orazio, in particolare del carme 1-11 di Orazio, che è il carme del carpe diem, e appunto Leo Conway che, tradotto molto sull'impronta dal greco, sarebbe a significare pensieri puri, pensieri bianchi, candidi, ed è quindi un insieme di 8 poesie d'amore. L'ultima sezione invece si chiama 13 Polaroid, è un insieme appunto di 13 brevissime poesie aventi per sfondo uno dei miei luoghi del cuore, che è il lago di Como, il Lario e le montagne che li fanno in pratica da cornice, diciamo. Quindi questo è il mio libro, io spero che lo vogliate leggere, vi auguro quindi una buona lettura e una buona continuazione. Grazie mille.